Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video Ragazzi, questa è la seconda parte del troll Ragazzi, abbiamo parlato di tre incontri Allora, domani ho i tre Un altro ho i tre Quindi ragazzi, però Questo è il troll, non è il vetro, perché non abito a Milano Quindi i like si crede, sono così Ragazzi, bisogna trovare 50 like per una cosa Intanto non ci arriveremo, però è 50 Ehm, dai Sì, ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Cazzo Facciamoci un selfie Ah, no, su Google Google, Google, vai, Google Cerchiamo Cerchiamo su Google, perché non ho memoria Ehm Un film di memoria su Google Io Quindi Ragazzi di 12 anni Immagini su, immagina, parca puttana Questo Questo Ecco, dai Questo Ho fatto lo screenshot Succedendo un casino Negli anni 80 Non è Ragazzi Bisogna Faccio un selfie Abbiamo già fatto un selfie Di donna Quina Abbiamo già fatto un selfie l'abbiamo già fatto l'abbiamo già fatto l'abbiamo già fatto ecco dico l'ho modificata cos'è meno ecco perché è nero ecco ragazzi abbiamo detto questa cosa per vedere se la cagna come avete visto per vedere se la cagna quindi ti posso dire una cosa voglio essere ragazzi per di rindina per dir di rindina diciamoglielo diciamo dai diciamo ma è uguale che scialla scialla zia scialla cazzo ok mi sa che sei incacchiata c'è già di corpo di di corpo ratura le mine le mine le mine le mine mi sono sbagliato le mine ragazzi ragazzi forse ci la da forse la foto ce la da tanto non ci credo le mine tanto non ce la da ugualmente ci dirà di no ci dirà di no ci vuole scommetti che ci dirà di no ci dirà di no che no davvero cosa epica epica 50 like 50 like si mi dà la foto tanto mi sa che già cinturata la verità l'avete cinturata dai 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 quindi ragazzi su ragazzi dai 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 quanto si mette intanto ragazzi giochiamo a briscola ci sei forse ti sta facendo la foto cazzo le mine ho detto min poi ho sbagliato le mine ragazzi proprio proprio una cosa epica se ci esci dalla foto 50 like un'altra cosa come questa ragazzi davvero 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 dai 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 quanto ci aspe no no ragazzi è censurata è censurata perché ci sono le mani raga raga wow cazzo un'altra cosa un'altra cosa